Facciamo un mischia per gli ordini, mi raccomando, si, 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 mi raccomando, ma sai che si potrebbe fare Gigi, ce ne manca uno si può invitare, si potrebbe essere in chiesa per King Guerra, che ne dici? No'! Guarda Gigi, è coltino, è imbloccabile, 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 via, via! 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 No! Non lo fermo! Aiuto, salvatori, morto! Dunque l'attaccazona! Vai fra! che no che pena perché dio penoso quello canna che è stato mezz'ora con un millimetro di millilitro fra mi sa che devo usare il metodo mayra cosa sarebbe il metodo esattamente la stessa cosa finta ogni tanto perché sono quella che ribalta stata l'ex al feccato da b e non me ne ha fatto prendere da te la fuori fida ti arriva un po lo pigli 12 12 le chiamo poi se chiami le mosse sono più forte metodo mayra via come quando ma mai da scusami io faccio una domanda semplice non penso sarà quello che conosco io di maio come si come legge no no non è proprio quello che so no perché mai da più che un id io è una persona che conoscevo le medie ma se già mai era via ma il miele aveva domani non gli è entrato quel periodo no di un externo ha fatto il pesante mamma mia ci scopano ci scopano ci scopano ma se tu muori ogni volta cosa vuoi da me devo cambiare ancora metodo visata userò al metodo metodo sai zai rivolto a quell'altro ma sul light ma perché guardavano anzi ecco questo gioco risolvi allo che mi sbattane mi costa minas su res no aria legge che peccato aiuto 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 un ribaltino a fermo chi te murti no così a casa purtroppo duello che dai non si capisce un cazzo è no è via te la confida chi da che ti copro cazzo è no aria ma ha scopato non ha scopato ma scopato ma i ragazzi qua hanno finito mi sa perché non è fatto da devo fare la combina se vuoi tre volte su tre stai zitti g.ci sei matto tre volte su 4 abbiamo distanziali rispondi senta non le chiedo una mail formale con una palermo e non c'è a cartone ma almeno un minimo di educazione se proprio è interessato tu sei maleducato che non rispondi a parte che sono passati solo 20 minuti manco stesse aspettando da settimane e poi forse la gente lavora dorme o magari è in vacanza ma così fretta per un comodino lo porti a casa mia che lo guardo vuoi anche che ti prepari la cena con lei non tratto piuttosto noo chi schifo the banner della moscia scusa gabriel vabbè l'immancabile offesa un emozco ma l'immancabile offesa sembra come lavorare a me da trabacca d'oro mamma tutto è tutto mezzato che tutti sono morto in 30 secondi tutto mezzato ma stai sbagliando il pane peccato guarda che aspetto di fargli gravo qualcosa perché almeno il possibile che anche a gabriele mais tu leggero mi sta allocando Ma questo non è immortale Mamma mia Gabriella Io non ho capito Bellissimo Gabriella L'ho più forte del mondo Neanche lì spesso guarda gli entro Anche quando schiva Ma io non è che è impossibile Non stavo gancando e basta Dovevi fare un bash e moriva Ma che moriva Ma sì che moriva Sarà me Bello quel pericine Oltremente che gioca di allocche Neanche mi ha preso Guarda Umba Lunga bunga Guardalo No 1v1 No No Gigi Alla stanza Che mi è andato Venendo Ma sei proprio Sei proprio lo scemo Lo scemo Normale Nuova versione Aramuccio 2.0 Oh non ho più mezza lama Che cosa strada Mamma mia che schifo questo Che cazzo Non mi ha avvitano i colpi Non mi ha avvitano i colpi Guarda Umbio C'è il pugno Ma che cazzo vuol dire Non ce la stiamo facendo Ragazzi Su